Ciao ragazzi, oggi ci giocheremo a FIFA 15 Ci fa 15 appena uscite per queste cinque volta Ottimo, quindi iniziamo con la selezione delle squadre O altre cose da dire? Eh no, ogni cosa è subito Ah sì, ma dobbiamo prendere con il ghiaccio Pausa Vabbè, pausa Ghiaccio Se sembra abbastanza un po' ghiacciato Bene, 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 siamo tornati qua Allora, il ghiaccio è freddissimo Fuma Allora, ogni gol Un cubato di ghiaccio in bocca Che lo teniamo finché non si scioglie Io so, dove è? Che cosa sei in gioco? Che cosa sei in gioco? Cinque, no Io so, principiante Sì, sì Lo so, tu non consigli gli devo abbassare la capacità di portiere al minimo No, se no ogni gol è... No, 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 la marca è troppo facile Che sia? È troppo facile E risulta complesso È troppo facile Ma ogni tiro i gol Facciamo diecci No, fai quindici Ok No, non lo so Ci parte Guarda, come te lo faccio Ci giocati Ah beh, hanno provato a sfondare per 10 attrari Ci sono stati fermati Porca Ero l'hanno tirato la rita Oh no No Vabbè, non c'è già il borghiero Si può Vabbè, abbiamo fatto quello stesso Un cubo Un'orme tra l'altro Un'altra dimissione Rivediamo questo gol da un'altra colazione Oh, oh, oh Oh Oh, oh, oh Va, va, però per il senso Oh, oh, oh Che cordiale Oh, oh, oh Mi schifo Oh Oh Oddio che go No, fa di gioco Che sia E' un altro gol E' un altro gol Ok Questo è il più grosso che ho trovato Attenzione, ma non fa colla Ci siamo bene, cosa è successa? Non mi puoi diventare Il gioco Tutto qui va bene Oddio Torres E niente E' un boldo Posso staccare il pezzettino? Adesso non si stacca Allora, salite Non vedevole Ah, mi sono liberato del mio E mentre soffre, ho detto di fagli un'altra cosa Mi riparmi a stare in la bocca Tu mi guarda di salvare Che soffre, soffre, soffre Uccidino mentre soffre Oh, non mi pego, non mi pego Se ne prendo il cavolo Mi meriti L'ho diventa un paigliato Mi puoi diventata un paigliato Scusate Che soffre Che è schifo Non vuole un toio di me Mi avevo in toio c'è la sofferenza dentro di oro abbastanza frastagliato passare guardare cosi uno dietro l'altro ahahah oh no è giusto così alla lunga per creciare Ronaldo no si no oh no va bene ha trovato due gol ha confermato la sensazione di essere in grado e buono ma gli avversari devono marcarlo meglio questo è il play possiamo apprezzare davvero il gesto tecnico da un'altra inquadratura prego giochiamo no un freddo in più che sono persone attivati attivarsi in bagno a spolare il suo corpo oh claude oh in una situazione del genere non poteva sbagliare davvero una grande giocata guardate ecco il gol vediamo anche da questa tranquillazione migliere non è qui ah via grazie proviamo simboli un'esca riccardo andare in bagno da solo e esplorare il suo corpo inserendo cubetti di ghiaccio nei punti più spenduti e segreti per guardare per ora per 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 e per 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 il lavoro perfetto per il prodotto in mancia c'era un motivo per tenere un giocato brutto via dalla madre vedendo questo guarda forse migliorato in quanto a lunghezza oddio che gol vabbè lo prendo anche la tante finita portavo a farlo vedere davvero un famoso drologo guarda il mio figlio al pene è un po' piccolo tra il po' satisatta il pene è normale ma il cervello è piccolo perchè il mio figlio è più molto riguardo speriamo che il video vi sia piaciuto che schifo di mio dai beccato mettete mi piace e lasciate un commento un secondo lasciatemi e prende allora volevo sponsorizzare la creazione di un nuovo forum aperto a tutti che si chiama Jacky Gaming che serve per postare il vostro gameplay tutto lo spam che volete se volete mostrare il vostro gameplay lo potete mettere nel forum sarà un forum aperto, attivo, creativo creazionario esplosivo morigerato protestante con lati anche cattolici però ancora non per caso i hugonotti non sono ben accetti allora bene quindi ci vediamo nel prossimo video e buon saluto